Francesco Marone Cinzano, patron della Cantina Col d'Orcia a Montalcino e promotore del neocostituito Comitato Montalcino Bio. È stato presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino e ha idee molto chiare sul futuro di Montalcino. Promuovere la responsabilità collettiva e la biodiversità. È con questo obiettivo che è nato il Comitato Promotore di Montalcino Bio. Un tipo di sostenibilità anche economica? Ma sì, certamente. Si tratta di un progetto di territorio, un progetto economico, culturale, di valorizzazione di tutti gli aspetti di Montalcino, di tutte le sue produzioni. Anche aspetti come il turismo vanno vissuti come prodotto e vanno valorizzati. Per cui tutte le varie attività sul territorio di Montalcino devono essere coinvolte, vogliono essere coinvolte per offrire prodotti sempre più qualificati, sempre più unici. Pensare plurale e biologico, queste le sue parole chiave per il futuro. Cosa significa? Significa anche riconoscere quella che è una predisposizione del territorio di Montalcino. Montalcino, a parte appartenere alla Val d'Orcia, al Parco della Val d'Orcia, al Patrimonio dell'Umanità, ha una gran parte del proprio territorio occupata da macchia mediterranea, perché questo rappresenta biodiversità. Un dato singolare di Montalcino, comune così famoso nel mondo per il vino, solo 15% del territorio è piantato a vigneto. Per cui c'è proprio questa pluralità di produzioni, città del miele, città dell'olio, grande tradizione di altre colture nel passato, anche c'era ricco, i nostri seminativi di Montalcino. Per cui bisogna guardare a tutto campo, bisogna guardare oltre il Brunello. Perciò Montalcino Bio guarda a Montalcino oltre il Brunello. Lei sogna non solo l'unione di tutti i viticoltori, ma di tutti i produttori biologici. È un'unione possibile? Io sogno il coinvolgimento di tutti i cittadini di Montalcino. Abbiamo nel Comitato Bio, ci sono uniti a noi dal primo giorno, il commercialista, la parafarmacia, il macellaio, il consorzio agrario. Per cui è una consapevolezza che va portata nelle scuole, che va portata nella raccolta differenziata dei rifiuti, che va portata a tutti i livelli del vivere civile a Montalcino. La costruzione di un futuro per i figli, per chi verrà, insomma. Si gettano adesso le basi per... Ma si, ha visto anche già ieri a Bordeaux, cosa si sono accorti? Che i bambini sono inquinati da prodotti chimici che usano nei vigneti di Bordeaux. Questo è un indicativo, insomma, si sta guardando queste cose, dobbiamo anticipare questi tempi.